Per noi è importante avere un voto di intervento. Vi darei la parola della giusta che lo potete tratenere. Io sono lei che sono usato. Ok. Allora, per esempio la parola a Giovanni Monchiero e poi a Andrea. Anche lei, se non si va a mirare, stanno in giù. Dove abbiamo un voto di un uomo di questa camera. Ma io solo ti ho una cosa. Adesso, sempre bene. Lo dicevo solo un po' di tutto il tema del problema. Allora, su tutto questo, diremo che siamo da pronto. E soprattutto per quanto riguarda la rientrazione delle differenze. Per quanto riguarda la rientrazione delle differenze regionali, anche per quanto riguarda l'accesso al farmaco, e noi, perché più naturali mettiamo, più differenze costruiamo. E la ragione stessa è di distendere un puntuale. Credo che questo problema si possa scoprire un solo smartphone, per quanto riguarda il farmaco, per quanto riguarda di tutti gli scavoltaati provocati che consentono di diluire nel tempo le proprie azioni. Con uno scopo non dichiarato ovviamente, ma raccomandito, di contribuire al contenimento dell'ospedale. Per quanto riguarda la permette di questo? Per quanto riguarda il nostro regolo, invece, non possiamo dire che questa norma è stata trattata dopo un caso di un uomo, solo che ha portato a mettere una situazione forte per davanti nei confronti di tutte le altre farmaceutiche. Devo dire che la norma, così come adesso, è già migliorata rispetto alla versione originaria che è una norma di certo che è affettibile, anche qui la soluzione può essere lo sentimento dell'AIFA che in questo settore deve poter assumere lei l'iniziativa. Se i studi internazionali ci dicono che i due farmaci sono sostanzialmente diversi, esistono perché la casa di un museo che produce il farmaco sia motivata a far registrare anche perché non utilizzano solo per quello tradizionale. Questo è un'azienda, comunque, è un'azienda di risposta che si chiede sempre. Il caso di un'azienda è un caso che viene per parte di un'azienda di risposta ulteriore e come sempre, però, non sono solo a caso di un'azienda di risposta, ma anche di 50% che è un'azienda di risposta.